Basta per metterli Sì, dove sto? Sì, è vero Sì, è vero Com'è? Certo, qua Sono qua, per esempio Sì, è libero Sì, è libero Sì, è libero Tu, vedi, è troppo Tu vai proprio con me Diciamo, trattori non hanno libertà di venire Trattori non hanno la sua terra C'è la sua terra E basta Puoi cambiare Vedi, ha fatto così, bam E poi Tu devi prevedere che qua ci sono 40.000 di difesa contro di te 40.000 di posizioni Tu devi andare come Come questi uccelli che attaccano da su Va, va, va Bang! Oh, vedi Perché noi facciamo questa cosa? Spiegami Perché da su? Non so Non so Apre l'occhio Noi non ci vedo Vedi Po Noi non ci vedo O, sono qui? Succe la prima cosa che si chiude? Lo, palma, palma, io, palma. O, si. Siedi tu, siedi tu nemmeno. Si metti il braccio da un po' Siedi? Gattolo. Siedi? Siedi braccio da entra. guarda cosa succederà, io passo qui, io passerò qui, e posso andare qui, però si mette sempre dentro, nel modo di vivere, non entra profondo, e adesso io posso cosa fare, andare, entro, 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 inizio, 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 inizio hai inserito? si, si si però vedete puoi lavorare vedete vedete puoi lavorare vedete vedi abbastare un pochino per l'assaggiarci qui ora vedete un'operazione per risolvere così guarda così ho fatto gambe ho fatto gambe giù e poi è tornato giù e l'ho vissato e l'ho vissato si, si, l'ho vissato in montanaro e poi dici tu ho fatto montanaro nuovo sono vivono in montagna sono un caso di non dire non dire sono molto sono 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 non voglio mostrare oggi un nuovo un momento metti qui si allora vedete 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 un virgo un Invece l'ho un po' un problema per fissarsi, la trovo davanti, guarda, guarda, sei tutto Stolto, uno, due, vado qui con la spalla, e poi si aspetta, 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 qua basta, qua serve controllare bene, e poi, Ma tu senti che vuoi lasciare, o? Provo alzare Davai, va continuare Chiaro è? No, non muovo Aspetta Viste a... Volei... Aha E' strappurato, non riesco a muoverli Non riesco... Provate Non tante picace, secondo me, questa Non, non, ti cai solo che destra No, non, prima devi inserire gamba sinistra Adesso Sinistra v e questa da... Adesso è caduto di destra Qu'è, qui è? E questa di cina Ok, con spalla sinistra terra No, destra te qua No, destra? No, destra Ah, sì Ok, a pulce, adesso Ok Bene Inserisci Questa braccia molto più profonda E questa entra Come ha una condizione Vai, 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 vai Vai, 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 molto, molto Ah, capito Vai Ah, sì Sì Però io questa cosa Interessano anche Certo sull'odinocchi Questa braccia Aiuto Seta dake, dake Gazi Prova Seta? Seta? Seta Dake, prova Dake, prova Ma Seta Ma E Ma Dake, prova no 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 subito mia l'amba è davvero guarda quando entri in questa parte qua dai prova vedi tu stai cadendo così vai con schiena di mano qualcosa che non va ora come faccio ora come faccio vedi continuato prendo prendo e vado così poi inserisco questo braccio sinistro qua questo sotto così allora si allora il filo destra poi metto qui